Il 45esimo anniversario dell'uccisione dell'appuntato Salvatore Falcetta e del carabinire Carmine Apuzzo. Fu la strage della casermetta dei carabinieri di Alcamo Marina, di cui oggi, dopo i genoti stravolgimenti giudiziari che nell'ultimo decennio hanno portato a scarcerazioni e all'apertura di nuovi possibili scenari nel tentativo di individuare moventi e responsabili del duplice delitto, non si hanno ancora effettivi risultati che possano svelare la verità. In una nota il comando provinciale dei carabinieri di Trapani oggi ha comunicato che per esigenze legate all'emergenza sanitaria in corso, purtroppo, la cerimonia in onore non è stata celebrata, tuttavia l'arma, prosegue la nota, non dimentica il sacrificio dei suoi uomini che con spirito di dedizione hanno pagato con la vita l'alto senso del dovere e l'attaccamento all'istituzione. L'anno prossimo, quando si spera che l'emergenza sarà ormai alle nostre spalle, conclude. Torneremo a ricordare, come fatto negli anni passati, il sacrificio dei nostri commilitoni riunendoci in preghiera nei luoghi della strage. In queste immagini vediamo il monumento commemorativo. Grazie a tutti.